Ti vedi? Ciao a tutti Salute E non parlo, non parlo No Fabi consiglia, come si dice qua? Siamo pronti per fare Lo stregone Lo stregone è una faccia bianca che è vecchietto È vecchietto, facciamo uno stregone vecchietto No, no Ma già sei così bello, perché vuoi fare lo stregone? Facciamo un altro nome Facciamo Spiderman Sai che possiamo fare? Batman Lo vuoi fare Batman? Che tiene la maschera nera Andiamo adesso Ma ma che fai pappagallino, zia? A prendere il nero Nero Allo 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 Te ne avevo pappagalli qua Allo Le orecchie del pipistrello Uuuuuh Il pipistrello Bello, eh? Poi andiamo a rifinire tutte le puntine Il mio proprio Batman Il mio proprio Batman Il pipistrello Che dici? Ti piace? Sì Allora aspetta Iniziamo a mettere questi qua Come se fossero degli occhi Di Spiderman Quindi mettiamo prima un poco poco di colla Poi mettiamo Uno qui Ti piace? Fammi sentire Qual è il tuo cartone preferito? Ehm... Papetol 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 Ah, io non lo conosco a zia Puoi aiutare tutte le persone Aiuta tutte le persone Per le loro che gli cade la carta Quelle che gli cade la casa Aiuta proprio a tutti Per questo è il tuo eroe preferito Sì Sì Ciao a tutti Buon... Buon... Carnevale A tutti A tutti Belli e Buoni E Sì Brutti E Cattivi Ma a tutti tutti Vediamo questo buon carnevale A tutti i bimbi Sì Sì Chi è la tua zia preferita? Ma preferita è di sempre Sempre? Sì Sicuro? Sicuro? Non perché ti è stato truccato? Sì Anche quando mi rucchi Anche quando mi rucchi Oh E ma non mi puoi dare un vaso Perché sono tutta truccata Mi puoi dare lo stesso No È chiedermi poco la bocca E io devo sudare Ti Ciao 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 Ciao